Buonasera, buonasera a tutti e bentornati a Grandi Cortei, seconda puntata. Prima di tutto un ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito la prima puntata, sia nella sua prima messa in onda, sia poi quelli che l'hanno seguita nel corso della settimana. Sapete che poi ogni nostro programma viene replicato a rotazione ogni tre ore circa nel corso appunto della settimana. Quindi se vi perdete una puntata sicuramente la ritrovate prima o poi. Abbiamo anche letto e sentito i vostri suggerimenti, i vostri consigli e a proposito di questo vi invito sempre a seguire la prima messa in onda di ogni nostra puntata perché durante la chat possono venire fuori anche i vostri consigli, i vostri suggerimenti. Abbiamo cercato di seguirli e cercheremo di seguirli in questa puntata e nelle prossime. Arriviamo appunto al clou, alla puntata di quest'oggi, che sarà una puntata come vi dicevo la volta scorsa molto interessante. Forse, lo dico così, cerco di sbilanciarne un po', sarà la più spettacolare tra tutte quelle appunto di questa trasmissione. Vado un po' forse contro gli interessi del programma perché chiaramente c'è chi cerca di portare pubblico alle puntate successive, però ecco, chiaramente le prossime puntate saranno dedicate a dei cortei, quindi sono quasi esclusivamente sfilate. Quest'oggi invece ci sarà, oltre alla sfilata, anche una serie di momenti di vero spettacolo. Ma andiamo con ordine, cerchiamo di fare un piccolo riassunto, cerchiamo di anche rinfrescare la memoria a chi ha seguito la prima puntata. Dicevamo che siamo prima di tutto a Gordieto, quindi anche questa settimana come la volta scorsa. A Gordieto c'è questo grande corteo storico che in realtà è costituito da una serie di eventi, una serie di momenti, e i principali sono due. Uno è la Domenica del Corpus Domini ed è costituito dal corteo storico vero e proprio, che poi a sua volta è diviso in due parti, un corteo civile ed un corteo religioso. Il giorno prima, il sabato, invece, si svolge quello che viene chiamato il corteo delle dame, che come dice il nome, e come abbiamo anche accenato la volta scorsa, si chiama così perché chiaramente sfilano praticamente quasi solo donne. Dico quasi perché in realtà ci sono soltanto alcuni personaggi maschili che sono costituiti dai musici, quindi i musicanti, diciamo così, i tamburini, e gli sbaglieratori. Ecco, questi sono gli unici elementi maschili in tutto il corteo delle dame. Dicevamo la volta scorsa che appunto il corteo religioso e il corteo storico si svolgono appunto il giorno del Corpus Domini proprio perché si vuole celebrare questo avvenimento, perché il Corpus Domini come celebrazione è stato voluto dal Papa Urbano IV, nel 1264, che con la Bolla Transitus è stato poi, l'ha poi esportato in tutto il mondo cattolico. Lo ha fatto anche a seguito di un evento miracoloso, il famoso Miracolo di Bolsena, che non stiamo qui a raccontare, però appunto è stato un evento molto importante per la comunità. e il Miracolo di Bolsena viene ricordato appunto a Dorghieto anche portando poi in processione il reliquiaro del Corporale d'Oro. Ecco, attraverso questo miracolo, questo avvenimento, grazie appunto a questo avvenimento è stato poi esportato, come diciamo prima, questa manifestazione, questa celebrazione del Corpus Domini a tutto il mondo cattolico. E appunto è proprio grazie a questi avvenimenti religiosi che è stato introdotto il corteo religioso a Dorghieto, che è molto antico. Non l'abbiamo detto l'altra volta, ma è molto importante, addirittura si parla del 1373 come prima data, come primo anno in cui è avvenuta la processione religiosa. Ma soltanto molti anni dopo, si parla di secoli dopo, è stato introdotto il corteo storico, perché si voleva dare appunto anche un contesto storico a quello che era appunto il corteo religioso. Quindi questo appunto è molto importante sapere questo, perché comunque il corteo storico è stato introdotto solo successivamente. E addirittura inizialmente si voleva dare appunto un grande rilievo al miracolo di Bolsena facendo delle rappresentazioni. Questo, a quanto pare, secondo la storia, è successo negli anni 40, fino però a una certa data, appunto fino al 1950-51, quando per motivi economici, per motivi organizzativi, è stato interrotto questa tradizione, che in realtà è durata molto poco. Nel 1951 però arriva un'altra novità. viene chiamata una signora, una signora che si chiamava Lea Pacini, che alla quale appunto è stato chiesto di inventarsi qualcosa per poter rendere insomma accattivante quello che era appunto il corteo religioso della città. Questa signora si è inventata tutto insomma in poco tempo e insieme al corteo religioso è riuscita ad avere, ad ottenere pochi costumi, costumi storici, a metterli addosso ad alcune persone, ad alcuni figuranti e appunto a farli partecipare in questo corteo religioso. Quindi erano pochi, pochissimi figuranti. e apporterà il primo accenno di corteo storico. Da lì la comunità ha accettato, ha accolto con grande entusiasmo questa novità e il corteo storico finalmente è stato proposto nella sua veste attuale, potremmo dire, anche negli anni successivi. Lea Pacini è stata una grande promotrice insomma di questo corteo storico, tanto che appunto dopo la sua scomparsa, venuta nel 92, l'associazione che si occupa di questo corteo è stata proprio legata al suo nome. Quindi adesso si chiama associazione Lea Pacini. Adesso se ne occupa appunto un'altra donna, Nicoletta De Angelis, e appunto grazie a Nicoletta De Angelis che nasce il corteo delle dame. E arriviamo quindi appunto al corteo delle dame che vedremo in questa puntata. Il corteo delle dame praticamente vuole far rivivere quelli che erano i momenti ludici del Corpus Domini perché durante la celebrazione e festeggiamenti del Corpus Domini c'erano dei grandi avvenimenti spettacolari appunto tutto dedicato al gioco e soprattutto erano dedicati alle donne, soprattutto donne nobili che accompagnavano gli uomini nella città di Orvieto e non si trattava soltanto appunto degli uomini e donne della città di Orvieto ma di tutto il territorio. Quindi tutte le casate feudali del territorio andavano nella città di Orvieto per i festeggiamenti e diciamo più che altro per momenti di carattere diplomatico, militare, civile, politico, chiamatelo come volete. Le donne appunto andavano al seguito degli uomini e allora erano dedicati dei momenti appunto di spettacolo, di divertimento, di svago. E appunto il corteo delle dame vuole ricordare quei momenti. Quindi nel corteo delle dame abbiamo 150 circa donne nobili, chiaramente di costume storico, che sfilano e insieme a loro ci sono dei danigelle e appunto come dicevamo prima anche dei musici che sono gli unici insieme agli sbaglieratori ad essere personaggi maschili all'interno di questo corteo. Quindi quello che vedremo noi sarà proprio questo corteo delle dame che non è soltanto la sfilata ma poi è tutta una serie di danze e di spettacoli che appunto fanno un po' la cornice a questo corteo. Quindi per quello che dicevo che sarà una puntata spettacolare. Prima di tutto vi faremo vedere ancora una volta alcune immagini, quella che è la seconda parte di Orvieto, abbiamo anche trasmesso questa su GVLTV, quindi si tratta di pochi minuti, ve lo dico subito, e subito dopo cominciamo con il vedere proprio il corteo storico, quindi la sfilata, scusate, non il corteo storico ma il corteo delle dame, quindi la sfilata vera e propria e poi insomma ne parleremo ancora perché successivamente ci saranno questi momenti di spettacolo e li vedremo più tardi a dopo.